E l'arbitro dice che può bastare, partita che si vede dunque con un pari, i tiposi hanno assistito a un bello spettacolo, nessuno però è riuscito a prevalere. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza. La nostra telecronaca termina qui. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.